Un caro saluto da Mario Giuliacci, il tempo previsto per sabato 14 marzo. Un'altra debole perturbazione atlantica attualmente sulla Germania domani raggiungerà i Balcani e da qui lambirà anche le regioni centrosettenzionali dell'Italia, mentre sulla regione meridionale insisterà ancora l'anticicolone nordafricane. Ecco allora il tempo previsto per domani e come potete vedere molte nuvole sul centro nord dell'Italia, piogge deboli, intermittenti su Lombardia, Emilia, Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Puglia, Garganica, debole nevicate inferiore a 10 cm su Val d'Aosta e Alpi centro-orientali oltre 800-1200 metri, temperatura in forte calo di 6-8 gradi addirittura sulla regione di nord-ovest e 3-4 gradi sulla regione adriatiche per venti più freschi in arrivo da Balcani, massima inferiore a 10 gradi sulla regione di nord-ovest, 13-15 gradi sulla regione di nord-est e su quelle centrali Sardegna, intorno a 20 gradi sulla regione meridionale con punti di 23-25 gradi sull'est della Sicilia. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.